Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Lina Palmerini, notista politica del sole 24 ore, buonasera Italo Bocchino, bentornato direttore editoriale del secolo d'Italia e buonasera, ben arrivato Marco Travaglio, direttore del fatto quotidiano. Allora il governo di Giorgio Meloni conferma che vuole limitare l'uso delle intercettazioni e secondo la magistratura è un errore. Ma come stanno le cose? Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, allora oggi al Senato il ministro della giustizia Nordio ha ripetuto che i boss mafiosi non parlano al telefono dei loro delitti, ha confermato la riforma delle intercettazioni che riguarderà però solo i reati di mafia e terrorismo. Quindi siamo tranquilli? Cioè, ha detto che non toccherà le intercettazioni per mafia e terrorismo, mentre invece le limiterà per tutti gli altri reati come se gli altri reati fossero bruscolini. Ma diciamo, come si fa a essere rassicurati, questo non è più nemmeno un ministro, è una macchietta, è anche sfortunato, poveretto, perché a Natale aveva detto che i mafiosi al telefono non parlano, non parlano nemmeno nei campi perché hanno paura delle intercettazioni dei Trojan e dei microfoni direzionali. Poi aveva detto che il Trojan va abolito perché è una barbarie, è una porcheria, che è un po' in contrasto con quello che ha detto prima, perché se dici che i mafiosi non parlano perché hanno paura del Trojan, se poi il Trogli il Trojan perché è una porcheria e quelli ricominciano a parlare. Ma purtroppo per lui l'arresto di Messina Denaro ha dimostrato, come hanno detto i magistrati che l'hanno scovato insieme ai carabinieri del Ross, che senza quelle intercettazioni Messina Denaro sarebbe ancora latitante, chissà per quanti anni. Allora, poveretto, oggi ha dovuto rettificare, però non ha voluto completamente darsi la zappa sui piedi e quindi ha detto no, ma io intendevo dire che i mafiosi parlano, ma non parlano di reati. Beh, certo, parleranno anche di donne e di calcio, però immagino che i magistrati delle intercettazioni dei mafiosi che parlano di donne e di calcio se ne facciano poco. Credo che le intercettazioni che i magistrati hanno usato per trovare Messina Denaro fossero intercettazioni che riguardavano la latitanza di Messina Denaro, quindi dei reati che si chiamano favoreggiamento e tanti altri che hanno portato a cento arresti di altrettanti favoreggiatori che ancora porteranno ad altri arresti, visto che si scoprono nascondigli, case, covi, collusioni, medici, massoni, insomma tutta la creme della società che ha protetto questo signore per trent'anni. Quindi insomma ogni volta che mette una toppa fa un altro buco ed è ti pare rassicurante che questo sia il ministro della giustizia in un paese serio, ma in un paese serio non farebbe, non dico il ministro, non farebbe niente probabilmente, l'avrebbe lasciato in pensione felici e contenti che non sia più magistrato. Giro la tua domanda a Italo Bocchino, è rassicurante che Nordio sia ministro della giustizia, ricordiamo che è un ex procuratore, un ex magistrato, ma tutti i magistrati hanno, compreso il procuratore nazionale antimafia Melillo, hanno ricordato oggi che le intercettazioni sono indispensabili anche per i reati contro la corruzione, che spesso sono i cosiddetti reati spia poi per la mafia. De Lucia ha ribadito che non sarebbe stato possibile prendere Messina Denaro senza le intercettazioni e ha anche ribadito poco fa che i boss parlano e come la struttura dei reati di mafia è uguale a quella per la corruzione si basa sulla segretezza. Allora, perché il governo insiste su questa storia delle intercettazioni? Ma allora, ognuno è rassicurato da cose diverse. Io sono rassicurato dal fatto che un magistrato di alto valore, qual è il Nordio, sia oggi il ministro di Grazie e Giustizia. Marco Travaglio era rassicurato invece quando il ministro di Grazie e Giustizia era tal Bonafete, noto come Fofò DJ, con un curriculum da DJ e non con un curriculum di alto magistrato. Da avvocato. Scusa, io non ti ho interrotto, però ho tre minuti e quaranta secondi. Se mi fate esprimere poi mi dite che ho sbagliato tutto, però almeno fatemi esprimere. E quindi... Sempre che ti dà del voi, Marco Travaglio. Lui è più interessato al curriculum di Fofò DJ, io è più interessato al Nordio. Nordio oggi ha detto due cose molto importanti. Uno, che il governo intende coniugare il garantismo con la certezza della pena. Quindi ha detto una cosa che rispetta la Costituzione, che è garantista, e rispetta la certezza della pena che è un valore della destra politica. Quindi ha detto una cosa giusta. Nessuno vuole limitare le intercettazioni, ma si vuole limitare l'abuso delle intercettazioni. Abuso di tempo, abuso di costi, abuso spesso di scelta del soggetto da intercettare per ragioni mediatiche, abuso per la propalazione di notizie che rovinano la vita delle persone. Quindi io credo che il Nordio stia facendo un gran servizio al paese. Mi dispiace per Travaglio, non siamo d'accordo, ma questa è una cosa normale. Io penso che il Nordio sia molto migliore di Fofò Buonafede. Allora, adesso poi restituisco la parola a Marco Travaglio, ma prima vorrei sentirti, Lina Palmerini, su questa storia. Perché la maggioranza è compatta su questa riforma della giustizia, in particolare sulla storia delle intercettazioni. Perché la risoluzione di Nordio oggi è stata votata anche dai parlamentari del Terzo Polo, cioè quelli di Renzi e di Calenda. Quindi vuol dire che per il governo la strada è spianata. Ma non lo so, perché bisogna vedere poi il provvedimento di legge. E mi pare che la questione dell'arresto di Messina Denaro e soprattutto le dichiarazioni del procuratore De Lucia abbiano fortemente rallentato. Non dico che abbiano messo un macigno sulla strada delle intercettazioni, ma quantomeno l'hanno rallentato questo ITER. Soprattutto perché hanno avuto il sostegno di Giorgia Meloni. Cioè Giorgia Meloni ha una domanda precisa sulle dichiarazioni di De Lucia, ha detto che è su quella linea lì. Del procuratore capo di Palermo, De Lucia. Tra l'altro le considerazioni del procuratore De Lucia mi pare che diano voce a una parte della magistratura, non so quanto ampia, ma sicuramente preoccupazioni che esistono nella magistratura. Allora la mia domanda è, ma Meloni come ha intenzione di andare avanti sulla strada della riforma, della giustizia e delle intercettazioni in particolare, con uno scontro con i magistrati. Perché fino adesso noi sul tema della giustizia la destra è stata trascinata da Berlusconi. Cioè quando il centrodestra è stato al governo la musica l'ha suonata Berlusconi sulla giustizia ed è stato anche oggetto di tante divisioni sicuramente Italo Bocchino le ricorda. La mia domanda quindi è se la Meloni continuerà sulla strada di Berlusconi che aveva come linea politica lo scontro con la magistratura. Cioè quella era una linea politica andare contro i magistrati, le toghe rosse eccetera. Quindi la mia domanda è la visione della Meloni ma anche il modo con cui procederà su queste riforme. Se con una collaborazione o meno con i magistrati. La differenza tra quella stagione e questa stagione è che in quella stagione non si parlava di coniugare il garantismo con la certezza della pena. Si parlava di limitazione dell'uso delle intercettazioni e non dell'abuso delle intercettazioni. E il fatto che si stia sulla strada giusta lo dimostra che la maggioranza non solo è compatta e vince ma si allarga addirittura e l'opposizione è completamente allo sbando perché non ha una linea comune. Sì però poi vediamo le cose sul concreto. Cioè se non ci fosse stato l'arresto di Messina Denaro e non ci fossero state le dichiarazioni del procuratore dell'UCEA probabilmente non staremo a parlare di intercettazioni oggi. Scusami, dico anche un'altra cosa. La Meloni prima di togliere le intercettazioni per mafia e terrorismo si fa passare prima sopra o nulla compressore. È una legalitaria più di travaglio. Il problema è che a differenza di travaglio è contro gli abusi. Io mi sono fatta un'altra domanda. Come procederà e quale sarà il rapporto con i magistrati? Dico anche un'altra cosa. La Presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, che era Presidente mi pare anche nella stagione. Lei sulle intercettazioni ci va con i piedi di Piombo. Ha chiesto una serie di audizioni perché ha detto che è importante approfondire l'altra cosa. Benissimo le intercettazioni sulla mafia. Ma oggi, dopo l'arresto di Messina Denaro, stiamo parlando di una mafia che è cambiata, che è diventata una mafia borghese, trasparente, non so, è stata ribattezzata in mille modi. Come è possibile tirare una linea e capire cosa è male? Un attimo. Allora, non abbiamo ben capito Marco Travaglio. Allora dice Italo Bocchino che questo governo di Giorgia Meloni intende coniugare il garantismo con la certezza della pena. E allo stesso tempo, Giorgia Meloni è vero che ricorda molto spesso che lei ha cominciato a fare politica dopo la strage di Via D'Amelio quando venne ucciso il magistrato Borsellino. Allora, rischia sulla giustizia di essere la premier che ha fatto passare riforme che Berlusconi voleva far passare nel suo ventennio? Come andrà avanti? Andrà uno scontro aperto con la magistratura, visto che la magistratura è, diciamo, unanime sulla questione delle intercettazioni? Allora, sgombriamo il campo dagli equivoci. Io non penso che la Meloni voglia depotenziare la lotta alla mafia, non penso che questo sia un governo a favore della mafia, così sgombriamo subito il campo. Io il primo titolo che ho fatto su questo governo era Buona la prima, quando hanno fatto la legge sull'ergastolo stativo. Quindi io vorrei spiegare a Bocchino che a me, di chi c'è al governo, non me ne importa niente. Se fa cose buone, lo dico. Le cose buone le decido io in base alle mie idee. Allora, dato che io per vent'anni ho chiesto di bloccare la prescrizione, quando Bonafede ha bloccato la prescrizione io l'ho applaudito. Non perché mi sta simpatico Bonafede, ma perché ha fatto una cosa che io chiedevo da vent'anni? Quando Bonafede ha fatto il reato di voto di scambio politico mafioso, dato che erano vent'anni che si diceva che quel reato aveva il buco, io l'ho applaudito perché l'ho chiesto per vent'anni. Se questo governo tocca le intercettazioni non per levare gli abusi, perché gli abusi sono già un reato oggi, quindi non c'è bisogno di stabilire per legge che non si fanno gli abusi, perché gli abusi sono già vietati dalla legge attuale e la diffusione di quelle che non c'entrano con i reati è già evitata dalla riforma Orlando che stabilisce l'archivio riservato delle procure. Quello che esce sui giornali è perché è inerente e perché è pubblico. Bocchino, quando combatteva la riforma Alfano nel 2010 dicendo che era assolutamente incostituzionale, è perché Alfano diceva di voler limitare gli abusi, in realtà voleva limitare le intercettazioni dei magistrati per i reati dei colletti bianchi, non per la mafia, per la corruzione, per la truffa, per il peculato, per l'abuso d'ufficio, per il falso in bilancio, per la frode fiscale eccetera, cioè per gli stessi reati per cui li vuole limitare l'attuale governo. Allora la domanda è, benissimo, io credo che Giorgia Meloni faccia politica perché a 16 anni è rimasta scioccata dalla strage di Via D'Amelio. Che cosa le è saltato in mente di nominare uno come Nordio in quel posto chiave, visto che Nordio oggi dice le stesse cose che diceva un anno fa e due anni fa e sono le cose che ha sempre detto Berlusconi, a cui Bocchino nel 2010 si oppose al punto di fare la scissione insieme a Fini dal PDL. Adesso canta un'altra musica, io canto sempre la stessa musica, per me i magistrati devono intercettare chi sospettano di avere commesso reati, chiunque glielo lasci fare io lo applaudo, chiunque gli mette i bastoni fra le ruote io lo condanno, sia che si chiami Bonafede, sia che si chiami Meloni, sia che si chiami Nordio. Allora è tutto chiaro, intanto hai cambiato idea rispetto al 2010, e Giorgia Meloni andrà a uno scontro aperto come fece anche Berlusconi con la magistratura? Non è nella natura di Giorgia Meloni andare ad uno scontro aperto, tanto più con la magistratura, perché non dimentichiamo che nel 92 il successo del MSI che porta alleanza nazionale alla nascita dalla destra di governo nasce proprio dall'aderenza della destra politica alle testi della magistratura durante Tangentopoli. Il problema è che poi abbiamo registrato degli abusi. Allora il tema che pone Marco Travaglio, c'è stato un periodo in cui si voleva tagliare le unghie ai magistrati attraverso una compressione dell'uso delle intercettazioni, qui si sta parlando di una razionalizzazione. Faccio un esempio, oggi Travaglio sa che il 99% circa di un numero 95, 94, 96% delle richieste di intercettazione inviate da un PM al GIP viene approvato dal GIP e questa è un'anomalia, perché la statistica dice che non è possibile che sono tutte buone. Prima anomalia, seconda anomalia, tutte le reiterazioni di 15 giorni ogni 15 giorni. No, ma solo per capire, tu dici che sicuramente il 90% del suo, io qui non lo so il dato preciso. No, un dato enorme. Il tema qual è? Lasciamo decidere ad esempio ad un collegio di tre persone che non stanno in procura nell'ufficio insieme con loro, magari della giudicante, eccetera. La prescrizione, allora qui il tema della prescrizione, la prescrizione Travaglio è uno degli elementi fondanti di una civiltà giuridica. Lo Stato deve... Ma di che parli? Ce l'abbiamo solo noi! Fammi parlare! Ce l'abbiamo solo noi! Lo Stato deve perseguire il reato e si deve dare un tempo. Io non chiederei mai la prescrizione, rifiuterei la prescrizione. A te è capitato di chiederla una volta personalmente la prescrizione? Mai chiesta, mai chiesta né ottenuta. Dopo hai detto che era stato il tuo avvocato senza informarti. No, no, ma non è stata né chiesta né concessa, no, non è stato prescritto. È l'unica condanna definitiva che ho, una multa a 1000 euro. Informati, è falso. È l'unica condanna che ho, una multa a 1000 euro. L'hai detto tu che fu il tuo avvocato, quindi io dico... Non è stata accolta! Non so cosa dirti, non c'è la prescrizione. Quindi se non è stata accolta, scusa, se non è stata accolta è stata richiesta. Quindi ammetti che è stata richiesta la prescrizione. Ma la chiesta all'avvocato ma non gliel'hanno data, io non posso... Ah, la chiesta all'avvocato, tu hai insaputa. Sai che tante persone sono successe cose a loro insaputa. Ma è l'avvocato dell'Espresso, io cosa centro? Benvenuto nel cab a mia insaputa. Ma non c'è, non ho mai preso una prescrizione. Il punto è, il punto è, ma tu sei contro gli abusi, sei contro il fatto che Nugnes nell'inchiesta Global Service, che ti ricorderai benissimo, si suicidò e poi è stato assolto, si suicidò per l'abuso delle intercettazioni sui giornali. Te lo ricordi il caso di Nugnes? Chi chiede scusa a quella famiglia per un suicido? Bisognerebbe raccontare tutta la storia. No, però non... Non è vero? È vero o non è vero? No, io adesso non lo so se Nugnes si sia risolgiatto per le intercettazioni telefoniche. Lui lo sa bene. No, credo che non lo sape neanche Travaglio. Non lo sape neanche tu, neanche tu. Sì, sì, lo so bene il caso. Lo so bene il caso. Allora, Lina Palmerini, non lo so se ci sarà uno scontro o meno. No, io onestamente penso di no, però dal mio punto di vista questa è una stagione nuova per la destra. Mentre quando c'era al governo Berlusconi, Berlusconi trainava anche la destra sulle sue posizioni e mi ricordo anche lo scontro con Fini sulla prescrizione e mi ricordo anche Fini che gli diceva ma insomma questa riforma poi della giustizia in senso garantista non c'è stata, ci sono state le leggi ad personam. Questa è stata quella stagione. Quindi io credo invece che Giorgio Meloni vorrà dare una sua impronta e non credo neanche che sceglierà la strada dello scontro con la magistratura per la stessa ragione che diceva Travaglio. Io credo nelle sue dichiarazioni anche dell'altro giorno quando ha fatto la foto vicino a Capaci. Anzi io direi che quello per la Meloni è un tratto identitario molto forte che non deve perdere e lei non penso perderà. Quindi io mi aspetto sulla giustizia una stagione completamente diversa e non soltanto sulla teoria ma anche sulle cose pratiche perché appunto sulla riforma Cartavia ci sono due posizioni diverse nella maggioranza perché c'è Berlusconi che non vuole riformarla, dicono piccole cose chirurgiche e invece c'è una parte sia di Fratelli d'Italia che della Lega che vogliono dei cambiamenti così come sull'abuso d'ufficio, Forza Italia lo vuole eliminare, Fratelli d'Italia e Lega sono per un ridimensionamento. Quindi secondo me sulla giustizia non abbiamo ancora visto niente, siamo ai titoli così di principio, cosa vuol dire l'abuso? Siamo tutti d'accordo, nessuno è per l'abuso di niente. Ma Marco Travaglio, a proposito di giustizia, sull'elezione dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura è successo un gran pasticcio politico, perché? Perché Fratelli d'Italia ha candidato tra i suoi Giuseppe Valentino che è anche ex sottosegretario, solo che Giuseppe Valentino è indagato in un'inchiesta, è finito dentro un'inchiesta sull'andrangheta e a questo punto sono stati costretti a ritirare la sua candidatura. Che cosa ci racconta questo incidente di percorso? Perché immagino che a Giorgia Meloni non abbia fatto piacere questo gran trambusto politico, questo pasticcio, nella migliore delle ipotesi. E rientra sempre nella sfortuna che questa cosa è capitata il giorno dopo la cattura di Messina Denaro e quindi quando candidi, non in un posto qualsiasi, al Consiglio Superiore della Magistratura per farne il Vice Presidente, cioè il Capo, perché di fatto è quello che gestisce il Consiglio per conto del Presidente della Repubblica che non è sempre presente. E ci metti uno che ha un'indagine collegata a quella di Gotha per Andrangheta. Per me è un presunto innocente ovviamente perché è soltanto indagato, ma a me quello che preoccupa non è il fatto che c'è l'indagine, è la sua biografia. è un signore che risulta in contatti strettissimi fino a quando non l'hanno arrestato con un certo Paolo Romeo, che non c'entra niente con l'amico di Bocchino, quello dello scandalo Consip, è un certo Paolo Romeo Calabrese, mai stato, Calabrese che... Non credo proprio, mai, non l'ho mai conosciuto in vita mia. Gli hai fatto un'intervista firmata da te. Sì, sì, è un'intervista scritta, certo, dove precisava delle sue cose. No, come giurista. Non sono stato intercettato né rinviato a giudizio per traffico di influenze come sei invece tu, insieme a Romeo. Ma lasciamo vedere, questo Romeo qua si chiama Paolo per chiedere alla cortesia di farti togliere le cause che ti aveva fatto Romeo e che ti sarebbero costate molto. Non hai chiesto nessuna cortesia a precisare... Ho ancora i tuoi messaggi, Marco, di ringraziamento. Scusate, ho voluto precisare delle cose e l'abbiamo pubblicato volentieri, pubblichiamo le precisazioni di tutti quelli che vogliono dire qualcosa su ciò che abbiamo scritto di loro. Con molto piacere perché siamo giornalisti corretti. Dopodiché stavo parlando dell'amico di Valentino, che si chiama Paolo Romeo, che si è beccato in primo grado 25 anni per Ndrangheta ed è un ex fascista, neofascista, a vanguardia nazionale di ordine nuovo. Re ho confesso di avere ospitato Franco Freda, nella latitanza. Allora la domanda è, ma come fa il partito del Presidente del Consiglio a proporre alla Vicepresidenza del CSM uno che a queste frequentazioni non mi interessa se è indagato, non indagato, eccetera. Ma voglio dire, ma le ragioni di opportunità politica, ma quando ci si sciacqua la bocca di Borsellino, ma Borsellino diceva, prima che arrivi la magistratura, i partiti facciano pulizia al loro interno e colpiscano anche i comportamenti che non sono reato, perché non ci sono solo i reati, ci sono anche un sacco di altre cose che non sono reato, ma che con la politica non devono avere niente a che fare. Com'è possibile che il partito della Meloni sia arrivato a farlo votare? L'hanno disdettato durante la votazione. Allora, Giuseppe Valentino, oltre a essere un noto avvocato e un noto giurista, è conosciuto a destra e a sinistra come un grandissimo galantuomo. Ha fatto il sottosegretario alla giustizia, un avvocato di grido, e lui dice il problema è il rapporto con Paolo Romeo. Sapete qual è il rapporto? E che è dentro un'inchiesta sull'andrangheta. No, vabbè, ma quello dico io. Ok, veramente, rompete sempre. No, 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 non interrompo. Lui ha detto che l'inchiesta è un problema, ma il vero problema sono i rapporti con Paolo Romeo. Sapete che rapporti aveva gravissimi Valentino con Paolo Romeo? Era l'avvocato, svolgeva la sua professione. No, no, Paolo Romeo lo faceva votare. Paolo Romeo gli faceva le campagne elettorali. Vabbè, ditevi quando posso parlare. Ditevi quando posso parlare. Vabbè, fatto sta che questo... Quindi non è un incidente di percorso? Era l'avvocato, era l'avvocato. Nel 2004... E perché l'avete ritirato allora? Ok, un attimo, posso parlare? Madonna come si è agguerrito stasera. Allora, nel 2004, 19 anni fa, viene fuori una questione che interessa la magistratura regina. Adesso ditemi voi, è civiltà giuridica che sta a 19 anni, una roba lì. E poi il giorno, l'ora che stai per essere eletto al Consiglio Superiore della Magistratura, una manina da un ufficio. Un parlamentare locale dei Cinque Stelle. Due testate giornalistiche tirano fuori questa cosa. Questo è il problema della civiltà giuridica. Qui parliamo di un galantuomo che faceva la sua professione di avvocato penalista di Romeo. Allora, scusate, questo avvocato... Gli avvocati penalisti, chi devono difendere? Scusate, chi devono difendere? Perché se non difendono le persone che sono sotto processo, chi devono difendere? Difendono le persone sotto processo. A parte il fatto che quest'idea che ieri una manina ha tirato fuori una notizia segreta, è ridicola. Se mi facevate un colpo di telefono anche una settimana fa, ve lo dicevo io che era sotto indagine, perché lo sanno tutti. Lo sanno tutti. È sotto indagine da anni e questo è un problema di lentezza della giustizia italiana. 2004, Marco. 2004. 19 anni. Ma non ce la si cava così perché quello è il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma ti pare che puoi mettere uno che è sotto indagine e dopo che magari viene eletto Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura avete l'imbarazzo perché magari può capitare che te lo rinviano a giudizio o che Romeo si ricorda qualcos'altro di lui. Ma è l'opportunità politica che vi ho detto. Ma rendetevi conto della selezione della classe dirigente che fate. quando sarà archiviato ci sarà l'imbarazzo al contrario e sarà tutto l'opera. Ma i rapporti rimangono comunque. Non lo devi sperare ne puoi star certo e avrai l'imbarazzo in quel momento. Ma non siamo così vostro, nostro, loro. Io do il punto di Paolo Pagliaro che cerchiamo di ricordare i fatti e di commentare quello che sta succedendo. In queste ore il governo non solo si occupa di giustizia come abbiamo capito anche questa sera ma anche di riforme istituzionali. Però la prima urgenza in questo paese e lo sa bene anche il governo resta l'economia. Guardate. Da 30 anni c'è una corsa affannosa a far quadrare i conti del sistema previdenziale. Nel 2021 ultimo anno di cui si possiedono i dati l'Inps ha incassato contributi per 208 miliardi e ha pagato pensioni per 238. Lo sbilancio è dunque di 30 miliardi a cui si aggiungono i 40 di spesa assistenziale. anch'essa coperta dalla fiscalità generale cioè dai cittadini che pagano le tasse. Con diverse riforme in particolare quelle volute da Prodi Amato Dini Maroni Monti Fornero si è cercato di contenere la spesa in prospettiva insostenibile viste anche le dinamiche demografiche e lo si è fatto spostando in avanti l'età pensionabile e adeguandola alle aspettative di vita. Altri però hanno remato in direzione opposta controvate come quota 100. Il bilancio di ciò che si è speso e le previsioni su ciò che dovremo per forza tagliare in assenza di una robusta ripresa economica si trovano nel bilancio del sistema previdenziale italiano prezioso rapporto curato dal centro studi itinerari previdenziali e coordinato dal professore Alberto Brambilla. Nelle 230 pagine presentate questa mattina ci sono molte cose che sul sistema previdenziale non sappiamo e altre che preferiremmo non sapere come ad esempio il fatto che in Italia ci sono 400.000 pensionati che sono tali da oltre 40 anni persone che hanno versato contributi per una ventina d'anni e che poi si sono affidate all'Inps potendo contare sulla grande quantità di deroghe concesse all'età legale di pensionamento. Dice il professor Brambilla che in Italia non c'è stato e non c'è un occhio di riguardo per i giovani con i cui contributi vengono pagate pensioni anticipazioni e precoci vitalizzi. Siamo in chiusura grazie Lina Palmerini grazie Italo Bucchino grazie Marco Travaglio grazie spettatrici spettatori restate con noi perché adesso c'è Andrea Purgatori con il suo Atlantide al titolo I segreti dell'ultimo padrino naturalmente il riferimento è a Messina denaro come ha fatto a nascondersi per così tanto tempo chi lo ha coperto sono tutte domande che ci facciamo tutti e che non hanno trovato ancora una risposta guardateci state con noi noi ci vediamo domande come sempre 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.